Benvenuti a questo primo appuntamento del feste che sono contento di inaugurare a Sennori e ringrazio Elena Cornalis, il comune di Sennori e la cooperativa COMES, tutti voi che siete qui, Giuseppe Pintus, il condirettore del festival e tutto lo staff, tutte le persone che lavorano al festival Unisona in Rete. Oggi inauguriamo il festival con un habitué di Unisona in Rete che è il professor Massimo Onofri. In questa nuova formula che è l'aperitivo radiofonico io sarò affiancato da Francesco Zappino che è coautore e conduttore di Radio Indolente e tra l'altro è stato anche allievo del professor Onofri. Quindi da una parte uno che è un giovanissimo che si è lavorato col professore e uno che inizia ad essere un po' più vecchio. Il volume che presentiamo oggi è La critica in contumacia. Insomma ho fatto un sacco di danni con tutti gli staglieri. Ed è il terzo volume delle opere di Massimo Onofri, un volume che raccoglie testi che sono già stati pubblicati. Sono testi soprattutto di critica letteraria, non direi teoria perché il professor Onofri è sempre stato lontano da quella che è la teoria della letteratura, ma sono testi più strutturati rispetto a altre sue produzioni che anche ultimamente si spingono tra la narrazione e la saggistica. Tra l'altro c'è in apertura un libro che non era più disponibile da tanto tempo, che è Ingrati Maestri ed è una tappa fondamentale per Massimo Onofri perché con quel libro ha fatto sia scalpore, ma allo stesso tempo lo scalpore si è accompagnato da una divisione dei grandi della critica letteraria del tempo. La prima cosa che chiederei al professore però è questa, gliel'abbiamo proposto noi, lei era d'accordo e ne abbiamo parlato, fare questi volumi delle opere. Ma non è che mi viene, non è che ha un po' paura di essere monumentalizzato quando ancora la sua opera è in corso? Allora intanto buonasera a tutti e fammi dire una parola su questo delizioso borgo che è Senori e la bellissima biblioteca che sono arrivato un'oretta fa, c'erano ancora bambini, ragazzi, lettori, in un'atmosfera davvero piacevole che non è più legata al mondo del libro che è per le giovani generazioni ormai purtroppo una specie di arcaica resistente reliquia di una civiltà che non c'è quasi più, che sta tramontando, diciamo così. Invece venire qua e vedere questa biblioteca, le bibliotecarie eccetera, sono venuto di recente ad ascoltare però un caro amico che è Fabio Stassi, c'era forse già qualcuno qua, che è appunto mio coetaneo che seguo da tanto tempo che mi fa sempre piacere ascoltare, è un uomo soave anche eccetera, e mi ha fatto piacere di partecipare tra il pubblico, diciamo così. Quindi sono grato a un borgo come Senori che continua a investire sulla cultura attraverso strutture durature, non attraverso l'effimero, perché un'altra delle tragedie della contemporaneità, che forse di libri si parla pure troppo, che è un paradosso, ma se ne parla come? Cioè il fatto che il festival, no? Questo io ne lo considero un festival, nel senso in cui dico, è semplicemente una rete che promuove veramente il libro e gli autori. Voi pensate, no? Ormai anche il Salone del Libro di Torino, non ci vado più d'anni al Salone del Libro di Torino, proprio non ho nessun interesse per andare al Salone del Libro di Torino, perché c'è l'aspetto, c'è la gente che fa la fila, cioè botteghini, c'è presentazioni pagate, e poi non è importante il libro, ma la firma dell'autore su quel libro che si compra e non si legge. Questo ormai è diventato, diciamo, il mondo dei libri e della cultura quando va bene, quando va male, l'estinzione. Questa come premessa. Quindi grazie a Senori che ha ancora la pazienza di ospitarmi, di ascoltarmi e di considerarmi, diciamo così, no? Mi viene in mente, ecco, tu mi hai fatto questa domanda, diciamo così, la monumentalizzazione, ma io non... tra l'altro questo libro, se me lo dai un attimo, c'ha questa copertina, diciamo così pop, io la trovo bellissima, e questo sembra un libro, c'è una copertina tra il pop e il socialismo reale, diciamo così. Diciamo, l'Unione Sovietica del post-Stalin, diciamo, potrebbe avere una copertina così. Per chi conosce un po' la pittura sovietica, io la conosco abbastanza bene, è una pittura a parte, non fa parte della storia della pittura occidentale, perché le avanguardie sono andate lì, ma sono subito morte, diciamo, vabbè, non apriamo questo capitolo che sarebbe interessantissimo, qui c'è una giovane storica dell'arte che è stata pure mia allieva, quindi non vorrei essere bacchettato dai miei allievi, perché sarebbe il colmo, ma quindi nessuna monumentalizzazione, anzi, mi ha fatto piacere leggere di recente, poi un attimo, ma io non mi prendo sul serio, mai mi sono preso sul serio, non posso pensare che mi state prendendo sul serio voi, quindi non può essere un'operazione di monumentalizzazione. Beh, diciamo, la cosa interessante, lo scrittore che io oggi più amo e che è uno scrittore a cui vorrei tanto assomigliare, e che è uno scrittore, mi accontenterei di valere l'alluce di questo scrittore, che purtroppo è morto in un incidente stradale a 56 anni, e cioè Zebald, è uscito e sarà l'ultimo proprio qualche mese fa un libro intitolato Tessiture di sogno, è l'ultimo perché hanno proprio tirato fuori da cassetti tutto quello che poteva essere andato fuori, quindi non c'è più niente, purtroppo non c'è più niente di Zebald, e in questo, uno degli ultimi saggi di questo libro, era Zebald, un anno o due prima di morire, un anno e mezzo, viene invitato alla conferenza, ma è un sogno, e lui sogna che a un certo punto dal pubblico si alza, uno è il pubblico e lo accusa di essere un impostore, e quindi Zebald si sente un impostore, diciamo così, un abusivo, proprio lui che è il più grande scrittore degli ultimi anni del Novecento, insieme a Philip Roth, per trovare l'alternativa romanzesca, diciamo così, a questo scrittore spurio, non di finzione, e innervato, diciamo, di cultura, come io mi sento, spero di essere, nelle dovute proporzioni di un grande e di un piccolo, benché mi chiami Massimo, ma insomma sono minimo, come tra l'altro, diciamo, questa la racconto spesso, non vorrei averla già ripetuta qua, come tra l'altro, io mi chiamo in un romanzo di uno scrittore molto famoso, che si è vendicato dalle mie stroncature, cioè Andrea Camilleri, nel nipote del Negus, mette dentro un personaggio che si chiama Minimo Onofri, lo sapevi Carmelo? Ed è molto interessante, è una bella medaglia al petto, quando uno si chiama Minimo Onofri, e te la dà Camilleri, che è uno scrittore che io non amo per niente, e che, ma questo, diciamo, sarebbe un discorso lungo, e appunto l'avevo stroncato, lui, uomo intelligentissimo, uomo di grande simpatia umana, si è vendicato, e mi ha assicurato, caro Carmelo, fama eterna, cioè perché almeno come Minimo Onofri, diciamo, sarò ricordato. Credo di aver risposto con un po' di ironia, certo il volume è bellissimo, mi fa pensare, ma ammazzi quanto ho scritto, se questo è il terzo volume delle opere complete, ce ne saranno altri, allora io dico, bisogna che smetto, ecco, e quindi la monumentalizzazione, diciamo, non ci sarà. Però lei ha detto una cosa più interessante, Minimo Onofri perché lei ha stroncato, non è piaciuto a Camilleri che sia stroncato, ma quanto sono importanti le stroncate? Professore universitario, però critico, ma il mestiere è critico. Allora, questo mio giovanissimo allievo, giusto, hai toccato un tasto, diciamo, molto importante nella mia vita, diciamo, di studioso, scrittore, eccetera, tant'è vero che qui, tu l'hai ricordato, si apre proprio con Ingrati Maestri, che era un libro introvabile, non più ristampato, dove io a 34 anni mi sono permesso il lusso di scrivere capitoli intitolati come Semiopatie per attaccare lo strutturalismo, Ritorno di Salinari e altre paure per attaccare la critica marxista, nonostante io ero a sinistra e scrivevo sull'unità, oppure, diciamo, quel libro è un libro in cauto, ma io ho sempre consigliato ai giovani di essere se stessi, di non tradirsi, di non essere cerimoniosi, perché quel poco che puoi dare, lo puoi dare solo se sei sincero con te stesso, se sei vero, magari non arrivi da nessuna parte, ma se tu ti tradisci, se cominci da giovane a tradirti, hai già finito, già sei un morto vivente, quindi puoi arrivare, a me ne conosciamo tanti di accademici, puoi diventare pure accademico, ma sei un morto vivente, e lo sanno tutti, sei un morto vivente, quindi, dico qui ai numerosi giovani presenti, sono sorpreso della loro presenza, non traditevi, non traditevi mai, perché non si va a nessuna parte con il tradimento, e quindi la stroncatura, io ero famoso a 34-35 anni per le mie stroncature terribili, la stroncatura di Asorrosa, il capitolo intitolato Dimenticare Contini, cioè voglio dire, ma chi è a questi 34 anni che scrive un capitolo intitolato Dimenticare Contini, ma in realtà quel capitolo è un omaggio a Contini, seppure rovesciato, perché io a 35 anni mi dicevo, se qui non si dimentica Contini, noi non andiamo a nessuna parte, perché siamo dentro una storia della critica di cui Contini è stato uno dei capostipiti, la critica formalistica, la critica stilistica, se non si esce da quella influenza, scommettendo, e io scommisi su un grande critico che oggi, ecco qui se un merito me lo riconosco, se questo critico è tornato ad essere al centro dell'attenzione del dibattito, è perché in Ingrati Maestri io puntavo su questo critico di cui non c'era più niente in circolazione, era il critico stasera, Luigi Baldacci, aveva una produzione sterminata, ecco insieme a Benedetta Centovalli, lo dico orgogliosamente, che allora era direttrice di Rizzoli, abbiamo messo in atto un'opera di pubblicazione per raccogliere tutto il materiale di Baldacci e oggi la Rizzoli ha consegnato, noi come i Cibboletti riproporremo Baldacci, adesso pubblicheremo Critici del Novecento, se io riesco a sbobbinare questa intervista del tutto, che gli feci di due ore, ebbene, se Baldacci c'è, contò questo libretto Ingrati Maestri che quando uscì, era l'estate del 95, io andavo al mare con la mia ex moglie, non avevo ancora mia figlia, tornavo la sera e la mia ospite mi faceva vedere tutti gli articoli usciti, sono usciti in due mesi più di 120 articoli, di sui quattro sul Corriere della Sera, quattro sul Repubblica, erano cose inimmaginabili, tanto più che i giornali, allora c'era Mieli, il metodo Mieli che regnava, il Corriere della Sera prese le mie difese e la Repubblica invece mi attaccò. Quindi ci fu un dibattito pazzesco su questo giovane di 34 anni, mi ricordo una pagina in Corriere della Sera in cui c'era io al Bullicame che sto a delle pozze di acqua sul furio a Viterbo con un cappotto, sembravo il giovane Jacopo Ortis con un titolo più testa che croce, perché io parlavo di croce, recuperavo croce che, qui abbiamo studiosi dell'idealismo importante, che era un cane morto nel 95, diciamoci la verità e non voglio dire gentile. Quindi sono anche molto orgoglioso di aver contribuito insieme ad altri a un passaggio della nostra storia culturale credo positivo. Dopodiché resta la preoccupazione di Sebal che se sentiva un impostore lui, figuriamoci io. Sergio Morabia Rissoso è stato a prendere la mano e la mano. Ah sì, tu stai ricordando un episodio che io racconto nella prefazione a questa edizione, quindi è del tutto inedito. Cioè io per far capire un po' ai lettori di oggi quel tempo racconto un episodio cioè era allora direttore del gabinetto VSE, grande gabinetto VSE, frequentato persino da Leopardi diciamo nell'Ottocento che frequentava lo stesso VSE insomma. E c'era Enzo Siciliano che io voglio ricordare con affetto che mi avete conosciuto tutti perché poi è stato famoso anche diciamo per un pubblico non solo di letterati perché diventò presidente era amico strettissimo di Moravia di Pasolini faceva parte di quel cenacolo diciamo di scrittori romani dirigeva nuovi argomenti su cui io scrivevo che era la rivista nemica di Paragone che era diretta da Roberto Longhi oggi per Paradosso della Sorte io sono nato su nuovi argomenti e oggi dirigo Paragone è veramente divertente questa cosa ma chiudo la parentesi ma diciamo che a un certo punto Enzo organizza per vivacizzare un po' il clima un po' stantio ingessato del VSE una presentazione di questo Ingrati Maestri e veramente va sicuro fu impressionante perché io arrivai ragazzo ragazzo diciamo così un po' teppista e entro dentro questa sala e metà della sala comincia quasi a lanciarmi i pomodori mi insultava l'altra metà mi celebrava come se avesse visto la definità in terra insomma ci fu sto clima veramente incredibile oggi inimmaginabile io ero ragazzo e Gennaro Sasso che era un austero filosofo che io ho sempre stimato e continuo a stimare che non era non si dedicava a Carmelo tu lo conosci bene a eventi mondani diciamo così eccetera in un consiglio di facoltà che mi raccontò il mio professore Bedeschi perché io sono lavorato in filosofia mi disse che Sasso si alzò e disse devo andare a presentare il libro di questo giovane e se ne andò e venne a Firenze da Roma e quando prese la parola Sasso disse dopo 40 anni finalmente un interlocutore io insomma mi sono sentito laureato in filosofia e ho certo investito però insieme a Sasso Enzo Siciliano e Luigi Baldacci che erano per me poi c'era Sergio Givone oggi notissimo filosofo pure lui tutti adunati a presentare questo giovane teppista quale ero io e anche Givone ha tenuto un intervento un pochettino diciamo da equilibrista come lui è rimasto raffinatissimo ma insomma un po' equilibrista e poi c'era Sergio Moravia profondamente contro perché figuriamoci Sergio Moravia ha partecipato era stato uno studioso di Levi Strauss io lo strutturalismo lo attaccavo duramente e a un certo punto mi attacca in modo violento e a un certo punto mi dice ancora leggono croce questi giovani che vergogna e allora io mi ricordo che fici questa battuta e dice caro lei forse ha ragione su quello che dice su di me però le vorrei dire che io in realtà se sono uscito fuori così è perché negli anni 80 quando studiavo studiavo i suoi libri non croce e quindi fu tutto molto divertente diciamo così c'è un epigramma che ha acconiato è vero si è vero si ricorda pure dei miei epigrammi vabbè lo recito si fa così Sergio Moravia l'importanza di chiamarsi Alberto che mi pare un buon epigramma quindi ma è lì che nasce Massimo Novi cioè nel senso l'hai inorgoglita del fatto che una parte no no perché Massimo Novi era già nato come critico perché prima di Ingrati Maestri c'era stato forse quello che resta il mio libro più importante più noto che è il primo volume perché siamo al terzo volume dell'opera completa che è Storia di Sciascia quello è stato il libro diciamo fondativo per cui io sono passato dalla filosofia alla critica letteraria alla letteratura ma devo dire e mi fa piacere dirlo qui in Sardegna qui diciamo in periferia che io sono orgoglioso di essere riusciuto in periferia che non era l'orrida periferia di Roma l'inter dal romano che è orrido sono posti squali era la grande periferia etrusca io sono di Viterbo e i sardi con gli etruschi sappiamo ci sono anche ipotesi anche fantasiose dei rapporti diciamo così ma insomma ma diciamo quindi io venivo dalla Viterbo etrusca una città di provincia come poteva essere Sassari diciamo in quegli stessi anni dove io appunto adesso vivo tra l'altro scoprendo di essere ormai tifoso della Torres in pari grado e quindi perché in quegli anni lì cioè dal 75 al 79 quando ho fatto liceo Roma a Roma c'era la guerra per bande a Roma non si studiava i giovani paradossalmente quelli che celevano nelle facoltà di filosofia e lettere in quegli anni a Roma a Villa Mirafiori erano tutti provinciali ricordo per esempio un grande critico mio coetaneo che è Raffaele Manica Raffaele Manica era cresciuto a Alatri perché chi studiava a Roma non studiava i licei non si facevano diciamone queste cose quelli sono stati anni persi chi è del 61 come me che ha studiato a Roma a Milano faceva la guerra per bande tra gruppi opposti tra opposti estremismi quindi invece di studiare come dicono a Roma semenavano ora al di là di quello che noi possiamo pensare della politica della destra della sinistra credo che tutti insieme potremmo dire che quelli sono stati anni persi e buttati per la nostra gioventù alcuni di loro sono affiniti nel terrorismo sia nero che rosso è stata una tragedia invece io ero un giovane di sinistra molto di sinistra ma che aveva molto studiato e che aveva passato gli anni a studiare duramente di questo sono molto orgoglioso di questo ringrazio la mia città reazionaria che era Viterbo che era una città reazionaria di benpensanti di conservatori di borghesia anche molto ore ma io la ringrazio profondamente perché intanto ho potuto oppormi e crescere perché se avete da giovani si cresce opponendosi a qualcuno sempre è l'eterna storia edipica in qualche modo però un conto è opporsi con le armi no? come è accaduto coetaneo mio era giusva più avanti il terrorismo nero mentre io studiavo a Viterbo quello prendeva le armi da neofascista cito lui perché era proprio mio coetaneo per cui è stata una benedizione una benedizione crescere a Viterbo una benedizione vivere a Sassari oggi stare lontano dalle capitali dove appunto uno crede chissà che cosa ci sia e in realtà non c'è niente sul fatto che lei sia uno che ha molto studiato e che ha avuto una certa formazione ha citato anche la laurea in filosofia cosa che alcuni molti suoi colleghi invece forse non hanno avuto e invece si prendono più libertà del dovuto ecco lei è sempre stato un accademico anomalo è un critico che appunto non ha mai fatto dei saggi troppo accademici si è allontanato a un certo punto dalla dalla noiosa critica e invece paradossalmente lei è uno che aveva tutto un sostrato come stava dicendo o molto forte ecco un libro che qua contenuto come La ragione in contumacia esce fuori il Massimo Nofri più teorico più strutturato più filosofo quanto anche l'approccio filosofico ha giovato alla sua idea di critica che poi porta avanti tuttora allora vi ringrazio per questa domanda perché mi consentono alcune cose però vorrei prima dire citare un epigramma che ho scritto su me stesso diciamo che ho affido ai miei nemici ho detto tanto gli epigrammi su di me ce ne saranno tanti nemici me lo scrivo io un epigramma molto duro e lo affido diciamo così ai posteri a proposito del rapporto tra critica accademica e critica militante e io ho scritto questo epigramma perché voi sapete che gli accademici parlano male dei militanti li considerano superficiali i militanti parlano male degli accademici li considerano pesanti e allora io mi sono preso il peggio dell'uno e dell'altro e ho scritto questo epigramma critico militante per gli accademici critico accademico per i militanti vale perfetto come giudizio da affidare alla storia diciamo così dopodiché quindi liberatomi da questa cosa devo dire che ho incontrato sulla mia strada nella generazione appunto dei baldacci dei Cesare Garboli di Giulio Ferroni che sono stati tutti i miei maestri in qualche modo ho trovato sia nel campo militante Enzo Siciliano grande critico militante l'ho citato prima sia nel campo dei militanti che nel campo il mio maestro Nino Borsellino indimenticato indimenticabile un uomo di cui qualità umane e morali se solo ne avessi un 30% sarei un grande uomo che è morto appunto col covid non di covid ma con tutte e due femmine rotti non ci potevamo muovere io non so potuto neanche andare a salutarlo diciamo aveva ormai più di 92-93 anni ma è stato un uomo nei confronti quali non mi sdebiterò mai e quindi ho studiato filosofia ma poi ho vinto il dottorato in italianistica e ho vinto il dottorato in italianistica grazie a Borsellino che non era in commissione c'era Bianca Maria Frabotto in commissione la ricorderete come poetessa è italianista notevole donna femminista della primora una donna bellissima elegantissima ecco c'era lei in commissione e quindi che cosa è accaduto è accaduto che io ho potuto essere l'italianista e il critico letterario che sono stato per gli studi filosofici che avevo fatto perché se i miei coetanei e appunto continui dicevo prima che sono critici letterari mannati dentro l'italianistica sono molto attrezzati sul piano della critica di impostazione formalistica stilistica no? quello che mancava in quella critica lì erano le idee tant'è vero che Garboli per attaccarmi proprio sosteneva che ero un critico di idee ma diceva che con le idee se non si ha gusto non si va da nessuna parte e io invece rivendico questa volta non pensando alla propria Garboli che se non si hanno idee qualsiasi cosa si faccia non si va da nessuna parte nemmeno se uno fa il barista alla colazione alla mattina quel cornetto sarà senz'altro più buono se il barista è allora io mi ricordo questa cosa critico militare giusto critico della vita è così questo è il punto a fare il critico del libro perché quello che passa l'idea è non dobbiamo fare gli scienziati non bisogna fare lo scienziato scriveremo trattati medici prendiamo il morto l'autore è morto magari se non è contemporaneo ma ci sarà una domanda sui contemporanei e scriviamo un trattato il critico della vita quindi apre lo visuale lo sguardo su tutto ma oggi è difficile fare critica da critico oltre il libro cioè dare un giudizio su quello che succede su quello che accade verso i social media diciamo cambia una prospettiva quindi non c'è più il libro c'è altro sì anzi ti ringrazio perché mi hai riportato diciamo sulla questione che volevo affrontare e poi me la stavo dimenticando allora io nasco come critico nel momento di massima egemonia appunto dello strutturalismo della semiotica però traducendole in parole più chiare per tutti e per i diversi diciamo anche per le diverse discipline erano gli anni e in questo croce era d'accordo con gli strutturalisti dell'autonomia della trascendentale della letteratura cioè il fatto che la critica alla letteratura vivesse di regole sue proprie la critica varsista invece era dall'altra parte perché la critica varsista sosteneva invece l'eteronomia pensate a lucas che leggeva la storia della letteratura come storia di sovrastruttura da spiegare con la struttura che è la storia economica detta grossolanamente poi lucas grazie a dio era un eghelliano quindi c'era dialettica c'era pensiero ed è stata altra cosa fortunatamente per questo resta ma è interessante lo scontro tra l'autonomia della letteratura e l'eteronomia cioè tra la letteratura al servizio di se stessa e la letteratura al servizio di qualcos'altro ora il novecento è stato secondo me un secolo empio proprio perché due guerre mondiali i campi di sterminio i lager la bomba atomica hanno distrutto tutto nel novecento non si è creduto più a niente il nechilismo regna ma a una cosa si è creduto cioè è esistita una sola religione nel novecento la religione della letteratura cioè allora io paradossalmente che sono letterato fino alle midolla ho combattuto con tutte le mie forze quella che mi sembrava una bestemmia io riconosco non sono cristiano ma se dovessi riconoscere una religione riconoscerei una religione positiva come religione ma le religioni di qualche altra cosa no la dogmatica marxista in un'unione sovietica era una religione veniva ufficiata come una religione ora se il marxismo aveva una forza era il suo laicismo la sua ma se ma se devo essere religioso e beh cioè io ecco perché parteggio per i papi più reazionari io adoravo Ratzinger cioè quelli più vicini al dogma poi non credo ai dogmi non sono non appartengo alla parrocchia diciamo così sono fuori no per farvi capire la mia posizione quindi diciamo ho trovato sempre empia la religione della letteratura e ho sempre pensato che la letteratura che io amo profondamente se non serve a qualcosa e questo qualcosa si chiama la vita non serve a niente cioè a che serve leggere un romanzo una raccolta di poesie se dai libri dai romanzi e dalla poesia noi non possiamo ricavare eccola l'idea della critica come critica della vita un contributo alla costruzione del senso della nostra vita ma io se leggo Madame Bovary e cito quel libro là perché è proprio il libro di un autore che era uno stilista sommo e indiscutibile come Flaubert ma la leggo perché in qualche modo ho necessità di confrontarmi con l'adulterio con l'adulterio che eventualmente non vi svelerò se ho vissuto come adultero o se ho vissuto come tradito ma diciamo l'adulterio come la grande riflessione Madame Bovary cioè pensate alla descrizione cioè Flaubert entra dentro questa famiglia e ci descrive quel cretino del marito di Madame Bovary perché a Monte c'è questo imbecille assoluto è il genio da che cosa si vede Flaubert descrive per diverse pagine il cappello del marito di Madame Bovary e a un certo punto conclude così insomma il cappello adesso mi ricordo il nome assomigliava alla faccia di un imbecille bene genio perché lui ci ha parlato di che cos'è un imbecille senza mai parlare l'imbecillità ma del cappello di Madame Bovary questo che significa e rispondo appunto a te che la critica per me ha senso e mi sono occupato di critica solo se è critica della vita cioè solo se la letteratura serve a intensificare la mia vita e la vita dei lettori se io vi dico veramente che non cioè ho letto tantissimo diciamo così credo che tra i miei coetanei lo dico serenamente perché è un dato di fatto solo uno ha letto più di me uno solo di quelli che sono cresciuti con me dei critici eccetera eccetera Emanuele Trevi Emanuele Trevi che è stato anche vincito il primo strega è uno che mi faceva paura perché io arrivavo a Roma a studiare e dico guarda io ho letto veramente tanto questo insano niente di niente ma non avevo ancora conosciuto Emanuele Trevi che è veramente uno che forse non ha vissuto infatti poi ha sbagliato tutti i matrimoni ma insomma diciamo ha letto moltissimo grande amico grande scrittore Emanuele ci tengo a dirlo perché lo dico con grande simpatia ma quindi voglio qui suggerire a chi non l'avesse fatto a proposito della critica applicata il titolo di un libro e il nome di uno scrittore per far capire che cosa io intendo per critica della vita e cioè una questione privata di Beppe Fenoglio una questione privata di Beppe Fenoglio è un libro sulla resistenza lo sappiamo tutti ma qual è la differenza tra questo libro che onora la vita e altri libri sulla resistenza usciti in quell'anno che sono stati anche molto famosi ma che oggi non si leggono più fanno cadere le braccia e lo dice uno che è dalla parte della resistenza credo che quella fosse la parte giusta ma non mi interessano i libri edificanti a me i libri edificanti non mi interessano e il libro edificante era Uomini e No di Vittorini dove c'è un mondo diviso in due i cattivi che sono i tedeschi i buoni che sono i partigiani e sappiamo che la vita nella concretezza è diversa sappiamo che tra i partigiani ci sono stati criminali che tra i fascisti ci sono stati eroi nel senso che c'è stato voglio dire non è questo il punto il piano dei valori è uno e io sono decisamente antifascista la vita è un'altra cosa e allora vi dico perché Fenoglio che era un partigiano è grandissimo in una questione privata che cosa racconta a un certo punto chi di voi ha letto una questione privata alzi la mano grande libro beh diciamo che a un certo punto la storia è ridotta a tre amici sostanzialmente due uomini e una donna una donna bellissima che tra l'altro mi ricorda già quella che poi Calvino che era amico di Fenoglio nel Barone Rampante il personaggio femminile in mezzo a detto secondo me somiglia molto a questa donna bellissima capricciosa che prende in giro tutti cioè vuole avere la corte di tutti e però non gratifica nessuno io nella mia vita di donne così non ho conosciuto abbastanza non so quante ce ne sono eccetera ma diciamo che una che poi è finita nel mio libro Benedetti Toscani la principessa anoragica mi ha abbastanza spezzato le ossa ma diciamo che l'ho spezzata pure io a lei diciamo che è stata una bella partita in ogni caso è un personaggio femminile straordinario a un certo punto il nostro Milton perché così si chiama il protagonista Milton perché Fenoglio aveva la passione della letteratura inglese e quindi ha chiamato suo personaggio Milton il nomignolo da partigiano sapete era Milton va a bussare alla villa dove si vedeva con questa donna e a un certo punto questa vecchia magliarda meggera che gli apre la porta gli fa una rivelazione incredibile dice ma c'è no si sono trasferiti in città perché stavano sulle langhe no si sono trasferiti in città non c'è più eccetera non è qui la famiglia ma lei era quello che diciamo quando andava via arrivava quell'altro il suo amico diciamo così a un certo punto lui scopre improvvisamente che il suo migliore amico è la donna che amava giusto? la donna che amava si vedevano aveva una relazione lo scopre e questo è un partigiano sembra lì dice ma come i valori sacri della resistenza è un partigiano ma tutto il libro e guardate la genialità di Fenoglio è giocato su questa ambiguità cioè a quel punto lui deve sapere lui deve sapere se il suo migliore amico e quella era stata la donna che aveva amato lo tradivano ma siccome l'amico era finito nelle mani dei tedeschi lui fa azioni che viste dall'esterno da chi non sa nulla sono eroiche ma ciò che lo muove è una questione privata di feroce gelosia cioè sostanzialmente questo uomo è insieme un eroe partigiano è uno dei peggiori maschio alfa fallici che siano mai apparsi diciamo così perché vedete il maschio è una brutta bestia lo sappiamo adesso le donne stanno facendo molto diciamo per imitare il maschio in questo momento storico particolare ma è indifendibile del maschio alfa fallico e c'è un bellissimo verso di un poeta russo che però dice una cosa bellissima che per me dei maschi mediterranei e cioè questa ossessione che è propria del maschio io lo dico sempre a mia figlia ho detto Nicoletta vivi da donna libera però fuggi mille miglia il mio grande amore Nicoletta ha 23 anni mi ha mandato un video meraviglioso vestita da tifosa del Napoli perché vive a Napoli e studia lì che era fatta di tutti i colori ormai è molto divertente è una ragazza molto divertente ho detto però fuggi dai maschi alfa fallici quelli che con la scusa che ti amano che dicono che la gelosia è un valore perché ti amano in realtà ti vogliono solo controllare cioè fuggi dal maschio la cui dimensione quando è un maschio peggiore è il controllo della donna che ama questi versi di questo poeta russo Zenin fanno così io li trovo meravigliosi però ci parlano il maschio mediterraneo misteriosamente quando sei con me so chi sei ma oltre la soglia chi sei ed ecco la poesia che mi chiedevi sono versi straordinari che tutte le donne dovrebbero imparare a memoria e che i maschi dovrebbero studiare per vaccinarsi un pochettino cioè il fatto che quando la tua donna esce chiamiamolo il cerchio magico in cui tu la controlli sai che fa sai dov'è va tutto bene sei anche l'uomo più dolce del mondo quando non c'è non compare non risponde al telefono che farà con chi starà chi vedrà questo è l'inizio parossistico del delirio fallico che io ho cercato di mettere in guardia mia figlia da questo tipo di maschio che tra i giovani è meno diffuso che nella mia generazione che invece è perduta da questo punto di vista quindi tornando a noi Fenoglio questo ci racconta è un libro sulla resistenza sì ma anche no perché al fondo è un libro sul delirio maschile questo è un genio perché se voi prendete Uomini e No oppure L'Agnese va a morire di Renata Viganò vi rendete conto che ci sono i buoni valori di resistenza raccontate le cose eccetera ma non ne facciamo ce ne facciamo niente di quei libri sono morti possono essere studiati ecco Vittorini è stato uno scrittore importante come documenti ma la critica come critica della vita seppure considera la filologia necessaria per la comprensione dei libri non si riduce a esposizione di documenti a noi interessano a me interessano come critico come uomo i libri che sono vivi e che in qualche modo e quindi senza nessun timore reverenziale per i classici perché c'è il fatto è un classico e non si può dire che un classico è brutto un classico è brutto può essere brutto certo attenzione bisogna argomentare quello che si dice bisogna fondare quello che si dice e infatti proprio Filippo Laporta e vengo alla ragione in contumacia che è dove lì si teorizza la critica come critica della vita a un certo punto ha dato una definizione di me che io veramente bella e mi ci riconosco che è uno simoro Massimo Nofri in questo libro è un fanatico dell'argomentazione come si può essere fanatici per qualche cosa che è il vaccino contro il fanatismo l'argomentazione ebbene questo mostro sono io un fanatico dell'argomentazione io ringrazio Massimo Nofri per questa bella chiacchierata a partire dalla critica in contumacia in scivolet 2023 ringrazio Francesco Zappino grazie Francesco il libro acquistabile nel banchetto anche autografabile adesso lasciamo lascio anzi io e il professore alla seconda parte della serata grazie a tutti voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi